Marostica, una tenda a vela per il giardino della scuola materna di Ponte Campana, è l'intervento in corso in questi giorni deciso dall'amministrazione comunale dopo aver avvalutato le richieste di genitori e responsabili della scuola che hanno segnalato la struttura come una priorità per permettere ai bambini lo svolgimento di attività all'aperto al riparo dal sole. L'installazione di una struttura portante in acciaio e di una tenda a vela prevede un intervento di circa 25.000 euro.